Eccoci qua, buongiorno a tutti. Oggi voglio parlare un pochino di educazione di base, di uno dei comandi diciamo più importanti per quello che è la corretta gestione del cucciolo, ovvero il richiamo Vieni, che noi possiamo associare anche semplicemente al suo nome. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo associarli un premio in cibo al comportamento che noi vogliamo che il cane ripeta, quindi in questo caso il fatto che torni quando noi lo stiamo chiamando. Come possiamo iniziare? Intanto quando ce l'abbiamo a guinzaglio lo chiamiamo con il nome che gli abbiamo dato, come il cane ci dà attenzione gli diamo un premio in cibo, quindi in quel modo il cane associerà il suo nome a un premio. Poi a quel punto potremo andare a liberarlo magari in un posto dove non ci sono troppe distrazioni e una volta richiamato il cane e una volta che il cane diciamo verrà da noi noi gli daremo il premio e vedrete che diventerà una sorta di automatismo, magari vi consiglio di cominciare questo piccolo esercizio in ambienti un po' più tranquilli dove ripeto non ci sono troppe distrazioni per il nostro cucciolo per fargli questa associazione, quindi un'associazione in cibo, un premio tutte le volte che il cane ripete il comando vieni, esegui il comando vieni che noi gli abbiamo impartito. Mi raccomando non fate chiacchierate che non servono a niente, insomma devono essere un'associazione, una parola breve, secca, ripetitiva in modo che il cane diciamo la capisca facilmente e l'associ al premio che noi gli andremo a dare. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.